È brutta. Chi cazzo ha provato questo casting? Non riesce nemmeno a fare un buon accento americano. Ha anche chiaramente qualche problema psicologico. Sembra calva. Penso sia decente nella recitazione, ma è inquietante. Sembra che abbia tentato il suicidio con il fucile, ma ha fatto saltare solo la parte anteriore del cranio. I chirurghi hanno fatto quello che potevano su ciò che rimaneva del viso. Non è brava a recitare. È sfortunata? Chiaramente è nello show perché qualcuno ha abusato di lei. Ciao, sono Valerio Novara. Sono solo alcune delle pesanti critiche che sono arrivate, i pesanti insulti che sono arrivati all'attrice Bella Ramsey dopo che è stata selezionata nel cast di The Last of Us, la serie post-apocalittica che sta andando in scena su Sky Atlantic ogni lunedì sera. Sono pesantissimi insulti che arrivano da coloro che hanno giocato al videogioco. The Last of Us prende spunto da un famoso videogioco del 2013 in cui i protagonisti fanno fronte ad un'epidemia funginea, quindi a un virus, cioè un fungo, più che un virus, un fungo che infetta le persone e che le porta a trasformarsi sia fisicamente che a prenderne il controllo. La polemica che è arrivata all'attrice Bella Ramsey per il cast è inizialmente era perché non assomigliava abbastanza a Ellie, il personaggio che interpreta questa ragazzina di 14 anni che a quanto sembrerebbe, a quanto pare, sembrerebbe essere immune da questo fungo, il Cordyceps, che ha nel 2023, noi vediamo la serie che inizia nel 68 con dei discorsi che si facevano all'epoca sul fatto che potesse arrivare un'epidemia anche da questo fungo che nella realtà esiste veramente e che prende il cervello delle formiche e le controlla proprio da dentro. E poi la serie ci porta nel 2023 ai giorni nostri in cui il mondo è totalmente sotto il controllo di questi infetti e i sopravvissuti cercano di salvarsi come meglio possono. La Ramsey ha raccontato in un'intervista al New York Times che all'inizio era insomma il 2018, il 2017 quando è stata selezionata per la parte di Ellie in The Last of Us, all'inizio ci ha reso su perché molti volevano Caitlyn Diver, l'attrice di Unbelievable che per la maggior parte dei fan del videogioco assomiglia molto di più, assomiglierebbe molto di più alla Ellie della prima versione del videogioco, quella insomma la prima del 2013. e molti volevano la Diver come attrice, però è evidente che non basta la somiglianza mimica, espressiva e anche fisica per rendere un attore, rendere la parte di un attore perfetta per insomma per chi la interpreterà. Quindi è stato deciso di affidarsi a Bella Ramsey e a Pedro Pascal due big perché due big sono personalmente a livello di recitazione e che avevano entrambi interpretato alcune puntate di Game of Thrones ed era lì che avevamo visto Bella Ramsey e forse lì non era stata criticata anche perché era veramente una bambina perché ci aveva stupito con un atteggiamento spregiudicato interpretando Lyanna Mormont e dando del filo da torcere ai lord del nord e in particolare a quelli di Grande Inverno. Quando i fan hanno visto che Bella Ramsey sarebbe stata scelta per interpretare Ellie nella serie, i peggiori hanno cominciato a ricoprirla di insulti e a dare sfogo a tutte le proprie frustrazioni ed è una cosa veramente assurda perché stiamo parlando di una ragazzina e psicologicamente queste cose possono fare molto male a una persona. Lei in un'intervista al New York Times ha raccontato, dicevo che se nei primi momenti l'aveva presa a ridere, poi scorrendo sul telefono, ha raccontato di essere stata dieci minuti sul telefono scorrendo questi insulti e ha cominciato a sentirsi depressa, insomma a sentire il peso di queste critiche e di questi insulti perché poi critiche sono fine a un certo punto, ma come, cioè veramente ma stiamo scherzando, dire una cosa del genere a una bambina che comunque sia ha fatto anche i conti con, lei ha raccontato di aver fatto i conti con l'anoressia nervosa in un tweet del 2018 ha detto di aver avuto questo problema di natura alimentare anche perché il problema iniziale era nato dai denti di Bella Ramsey, insomma che non avesse dei bei denti e lei ha spiegato pure che questo problema, insomma, dei denti venisse dall'anoressia nervosa con cui aveva fatto i conti che è questo disturbo alimentare in cui si cerca di controllare al massimo il proprio peso e di rimanere sempre con un peso che non va mai bene, poi insomma il problema è quello, il peso non va mai bene, si cerca sempre di avere un peso forma ottimale anche inducendosi il vomito ed è un problema di cui soffrono tantissime persone di cui purtroppo non si parla mai abbastanza e se ne dovrebbe parlare di più, lei insomma in un tweet ha raccontato che è un problema di cui si dovrebbe discutere molto di più, ma è veramente folle che si usino parole del genere e poi che si arrivi a dire qualcuno ha abusato di lei, qualcuno si è fatta qualcuno della troupe, della produzione per essere scelta in questa serie che sta veramente facendo i botti su Sky e che mi ha appassionato e ci sta appassionando ogni settimana. Tra l'altro non è la prima volta in cui sento insultare pesantemente e criticare un'attrice per il suo aspetto anche perché di recente abbiamo visto anche nella serie tv mercoledì su Netflix quanto Luis Guzman sia stato criticato per il fatto che molti dicessero essere brutto per interpretare Gomez Addams nella famiglia Addams però è stato bravissimo anche perché è stato preso un attore di tutto rispetto che assomiglia molto di più di quello che era stato scelto negli anni 90 e questo è perché viene scelto un attore che assomiglia molto di più al carattere che troviamo nel racconto dal quale prende spunto l'epopea e la storia della famiglia Addams. In questo caso, anche in questo caso, quindi non è la prima volta che un attore o un'attrice vengono criticati per il loro aspetto. Era successo anche a Kate Winslet, a Kim Kardashian e a Jennifer Lawrence che ha raccontato che all'inizio di Hunger Games era stata criticata per il suo aspetto. Nonché Selena Gomez, fotografata nel 2015 in bikini, in spiaggia, alcuni fan avevano detto che avesse preso troppo peso e era stata costretta addirittura ad andare in terapia per tutti gli insulti e le offese che le sono arrivate. Io penso che questo sia un problema molto grave e le persone rischiano davvero di mandare in depressione le persone a cui si rivolgono, perché questo è cyberbullismo, diciamoci la verità, è una cultura dell'odio che si sta sempre di più espandendo attraverso i social. Leggevo che la K-pop coreana è piena di casi di musicisti e attori che sono arrivati al suicidio dopo aver ricevuto questi insulti ed essere stati criticati per il loro aspetto, di questo body shaming che purtroppo ancora facciamo i conti. E quello che dico è che qui è ancora più grave perché stiamo parlando di una ragazzina di 14 anni, cazzo, e per arrivare a dire è brutta, non mi piace, ma non ti piace di che? Ma che cosa dite? Cioè, ma poi se vi dovesse piacere una ragazzina di 14 anni e non ci avete 14 o 15 anni, c'è qualche problema e rischiate veramente grosso. Il motivo, adesso mi devo calmare perché, insomma, arriviamo al motivo probabile e papabile della scelta di Bella Ramsey, oltre alla sua bravura artistica, quindi credo che oltre all'aspetto fisico ci siano anche altri dettagli e altre caratteristiche che servivano alla produzione per scegliere il personaggio importantissimo di Ellie per The Last of Us, pochi sanno che la voce di Ellie nel videogioco è di Ashley Johnson e dell'attrice Ashley Johnson. Tra l'altro la stessa attrice farà una parte, una piccola parte, nelle prossime puntate in dei flashback, perché comparirà come la mamma di Ellie. Quindi, se mettiamo a confronto l'attrice Ashley Johnson e Bella Ramsey, ditemi voi se non si assomigliano. Questa potrebbe essere una delle tante, insomma, teorie per la quale è stata scelta Bella Ramsey, non che per me la prima rimane la sua bravura, anche perché ci sono tante variabili che portano la produzione, dicevo, a scegliere un'attrice per una determinata parte e non solo l'aspetto fisico. La Viver, come dicevamo in Unbelievable, sì, mi è piaciuta, però forse serviva un mix come quello della Ramsey, vicino ad un attore come Pedro Pascal, perché ho notato anche che questa cosa si compensano molto a livello caratteriale e credo siano una bella coppia formata per dare anche un seguito ad una serie che ci sta veramente tenendo a bocca aperta. Ditemi cosa ne pensate di questa polemica e, insomma, se siete soddisfatti dell'interpretazione che abbiamo visto fin qui di Bella Ramsey, ma spettano un crescendo, ancora non ha dato nulla rispetto a quello che può dare, anche perché, insomma, abbiamo visto in Game of Thrones, ci ha fatto veramente sorridere e divertire e è stata veramente una forza della natura, tanto piccola ma tanto forte di carattere. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, se ancora non l'avete fatto, c'è anche azione, seguiteci su Facebook e su Instagram, dove quotidianamente mettiamo post e news riguardo il mondo del cinema e delle serie. Vi do appuntamento al prossimo video.